Allora, il fatto che io stia registrando questo video dalla macchina vi fa capire che assolutamente non era previsto, questo video non lo volevo fare, in realtà non si tratta neanche di una notizia bomba per quanto riguarda il concetto di cambio di team principal perché parliamo dell'ass, ma sicuramente considerando il personaggio diciamo che parlarne poi male non fa. Lo avrete già letto, Gunther Steiner non è più il team principal dell'ass, è stato sollevato dal suo incarico. Faccio una premessa, lui ha un profilo Instagram, quindi è sui social, però non partecipa sostanzialmente, quindi non ci sono dichiarazioni ufficiali né per mezzo Instagram appunto né per mezzo stampa, non ho guardato su Facebook, ma sostanzialmente sembra una di quelle notizie, una di quelle operazioni che nasce dall'alto. Sicuramente non si è dimesso lui, per quanto io non ne abbia certezza, non si è dimesso lui, ma lo hanno tra virgolette cacciato. Al suo posto chi ci sarà? Ci sarà un certo Ayao Komatsu che era il suo, diciamo, braccio destro al muretto ingegnere di pista. Tra l'altro Komatsu ha un passato come ingegnere di pista appunto anche in Lotus, al fianco di Grosjean, che poi ha seguito in Ass, ex ingegnere di pista anche di Petrov, ma vabbè, diciamo che ha una carriera che parte da lontano. Gunther Steiner era, alas, dal 2016, quindi dall'inizio, un personaggio che conosciamo tutti piuttosto bene e sulle cui capacità poi alla fine è difficile effettivamente dare un parere che abbia senso, perché nelle scuderie piccole difficilmente emergi. Quindi vi voglio raccontare un aneddoto, più che un aneddoto, un ricordo tranquillissimo. Mi ricordo che alcuni mesi fa ero a cena al Montana con alcuni amici, con alcuni follower, e l'ho incontrato, eravamo da soli io e lui nella saletta, e allora scherzando, diciamo che lo conosco di vista, scherzando gli ho detto ma ascolta, quando è che prendi dei piloti seri? Quindi lui si è messo a ridere, poi gli ho indicato Alonso, c'era la gigantografia di Alonso sul muro del Montana e gli ho detto, guarda, questa è la persona che fa per te. Poi ci abbiamo appunto un po' scherzato su e quella è stata l'ultima volta che l'ho visto. Perché Ass ha fatto questa scelta? Probabilmente, oddio scusate, probabilmente perché si vuole dare un indirizzo più tecnico alla gestione del team. Stiamo parlando di una di quelle squadre che purtroppo non può avere chissà quali risultati in Formula 1. Fa da team di serie B, un po' come l'Alfa Tauri, un po' come anche l'Alfa Romeo, e più di questo diciamo che l'ambizione non può andare oltre un certo livello. Sicuramente dispiace perché, come vi dicevo, era un personaggio che ha lasciato il segno anche su Drive to Survive, quindi sicuramente molto conosciuto. Il fatto che ci fosse già, che ci sia stato già un suo sostituto a questo punto ad Interim, fa sì che la notizia del suo abbandono di carica di Team Principal fosse già premeditata, preventivata. Quindi non c'è un buco, non bisogna aspettare niente. Andrea Comazzo è il nuovo Team Principal. È un ingegnere, un ingegnere di pista, come vi dicevo prima. Ripeto, AS evidentemente vuole imprimere una diversa visione delle cose al comando di un team, in modo tale che abbia un fil rouge più ingegneristico. Impossibile dire se sia la scelta giusta o quella sbagliata. Sicuramente anche qui ci vorrà un minimo di tempo per rivedere il nuovo assetto, ma parliamo di una scuderia oggettivamente di Serie B che negli ultimi anni ha fatto diversi passi indietro, a differenza di altre squadre, e quindi c'è un grande punto interrogativo. Si era comunque capito che stesse succedendo qualcosa perché anche Simone Resta ha abbandonato il team, quindi area di grandi cambiamenti. Simone Resta, anche lui, ingegnere meccanico, un passato in Ferrari, poi passato in Alfa Romeo, poi di nuovo in Ferrari, poi in AS e ora è, diciamo, nuovamente a piedi. Cosa posso dire su Simone Resta? Non si sa dove andrà e se rimarrà in Formula 1, così come non si sa niente di Gunter Steiner, che tra l'altro ha un passato nel gruppo Red Bull, esattamente come Binotto, sono quelle cose che non sai fin quando non esce una notizia importante su di loro e vai a indagare sul loro passato, l'avevo scoperto un po' di tempo fa, quindi alla fine i personaggi nel paddock più o meno, anche a distanza di tempo, sono sempre quelli. Ovviamente seguiranno aggiornamenti, si dice che la scelta di AS abbia scontentato i vari dipendenti che non sono appunto felici di non aver potuto salutare Gunter Steiner per l'ultima volta. Chiaramente quello che si sa proviene da mezzo stampa, quindi i dettagli più intimi, sotto un certo punto di vista, non sono disponibili. Quindi quello che posso dire è che trattandosi di un personaggio e però anche di un team di Serie B, questo non sconvolgerà i piani della Formula 1, vedremo che cosa combinerà questo Komatsu che fa per la prima volta il Team Principal e quindi ci apprestiamo a partecipare da spettatori alla stagione 2024 con alcuni cambi al vertice, tra cui appunto questo di AS con Gunter Steiner, scusate con Komatsu, e poi anche al posto di, questo già lo sapete, al posto di Friends Toast in Alfa Tauri ci sarà l'ex Ferrari Lorraine McKees. Chi è il più scontento di questa notizia dell'abbandono di Gunter Steiner? All'AS probabilmente Leo Turrini che a Race Anatomy non potrà più fare il meme vivente dello stesso Steiner. Comunque vedremo se ce lo troveremo in giro, seguiranno aggiornamenti, iscrivetevi al canale.